Ambo è un'azienda danese, da sempre molto attenta alla sicurezza del paziente e in tutti questi anni si è contraddistinta per la produzione di dispositivi monouso, sempre per garantirne la sicurezza verso il paziente. Negli ultimi anni è diventata leader nel settore dell'endoscopia, sempre monouso e ha garantito un valido supporto nel periodo Covid. Ringraziamo la Dottoressa Commissari e il Dottor De Masi per l'invito riservatoci in questo importantissimo evento. Grazie a tutti.